Sono un investigatore dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti. Se menti, se fai male agli altri, apponderai. Hai mai perseguito una società grande come Purdue Pharma? Tutto il comportamento umano è costituito essenzialmente da due cose. Fuggire dal dolore, correre verso il piacere. Dolore, piacere. Dolore, piacere. Ma se noi riusciamo a insinuarci lì, in mezzo tra il dolore e il piacere, non dovrete mai più preoccuparvi dei soldi. Il dolore non è più qualcosa che dobbiamo sopportare. Abbiamo una risposta. Come può una cosa prescritta legalmente uccidere così tanta gente? Ditemi quali parole associate ad ossicodoni. Oxi chi? Oxi male! Oxi male! Oxi male. Mi scusi? Non lo metta nelle note. Noi siamo sotto indagine federale. Potrebbe dirmi quello che sa dell'oxiconti? A lei piacciono i film horror? Dovrete convincere i medici a prendere sul serio il dolore. L'oxicontine è il farmaco con cui iniziare e continuare. Più prescrivi, più aiuti la gente. È il brand a base di effioi di numero uno di tutto il paese. Questa droga sta penetrando in ogni parte della nostra comunità. Sei la gattina dell'oxiconti più graziosa che vedo in questo studio da mesi. Se sta funzionando. E sta funzionando. Possiamo aumentare il dosaggio. Portiamolo a 40 milligrammi. Non solo uccide il personale. Distrugge le famiglie e gli amici. Sei una cazzo di spacciatrice con la coda di cavallo. Quella macchina l'hai comprata con la morte di una ragazza. Fanno esattamente la stessa cosa che fanno tutti gli spacciatori in ogni angolo dell'America. Però loro vengono premiati. Lui è drogato di pillole e soffre da morire. È colpa tua! Lo sanno che uccidono le persone. Richard Sackler. Salve. Lei è... È stato molto bravo a fare tutti quei soldi. Grazie. Se non ti togli dai piedi, ti investo con la macchina e ti frantumo quel cazzo di cranio. E per rimediare mi darei dell'oxiconti? Grazie a tutti.